Siamo su Tracomple, ha ha ha, bello! Da notare tra l'altro che fra tutte le razze che c'erano ho scelto umano, cioè c'era Saiyan, c'era la razza di Majin Buu, il clan di Freezer, il Saiyan l'ho già detto, non lo so, e io ho scelto umano, perché sono originale. Allora, questo è un video tanto per... avevo voglia di registrare questo gioco perché mi piace molto, quindi niente, non vi farò vedere chissà cosa. Vi faccio vedere giusto una partitina dove sono arrivato nella storia e basta. Quindi cosa facciamo adesso, a parte l'occhio che mi prude, porca madosch che tra... Andiamo da Trunks! Vieni qua, parlami! Ah, c'è del resto? Cosa succede? Oh, c'è Cell! Ti faccio il culo, è il brucio te faccio! Perché sei un coglione! Sì, ok. Cell! E mo so cazzi toi! Te spacco in mille pezzi! Devi morire! Perché hai l'onda energetica? Levati! Via! Mori! No! Aia! Aia! No! Devi... Muori! Stronzo! Ti è! Ti è! E ti è! E mo ti becchi anche questo! Vieni qua! Olè! 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 E sai che faccio? Okaioken! Vieni qua! Perché Mr. Satan sta a volare? Non me lo ricordavo questa cosa, eh! Non credevo sapesse volare! Olè! E via! No, devo ricaricare! E! E! No! No, 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 no! Dov'è? Dai, 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 dai! Levati! No! Sta zitta! Devi morire! Stronzo! Aia! Muori! Via! Ce l'ho fatta? No! Satan, dove sei volato? Cos'era quello? Oh, no! Sconfiggi, Satan! Va bene! Via! Vieni qua! Palla! Let's go! Perché così non subisce danno? Perché... Beccati questo, stronzo! Mi sei sempre stato sul culo, eh! Sempre! Ogni Tanta Puntata! Puntata! Kaioken! Via! Aia! Levati! Devo fare il Kaioken! No! Levati! Oh! È una... Non hai mai saputo fare queste cose! Basta! Via! Fanculo! E io ci riprovo! E io ci riprovo! Aia! No! Aia! Tronza! Che palle quando favo la mossa! Questo... Questo te lo becchi tutto! Vai Goku! Vai Goku! No! Vien! Devi morire Ecco qua Muori Ecco qua Muori Goku perchè stai per morire? No Chi è? Satan devi morire Aia Puttana Stronzo Beccati anche questo Ale Ale E ale Aia Cos'è quello? Non lo prenderò mai così Appunto Beccati questo Stronzo Va bene Facciamo una cosa Aumentiamo di abili No Gli attributi Non altro Questi attributi Non gli altri attributi Voglio la salute A 13 Facciamo 14 Laura l'aumento a 4 E il vigore è così Andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti